da domani una piccola tregua del maltempo perlomeno secondo la protezione civile di Ragusa la pioggia dovrebbe riprendere domenica prossima il freddo comunque persiste così come l'allerta meteo sulle strade per la presenza di ghiaccio causa modica questa mattina l'apertura delle scuole a seguito del quale il sindaco Abate ha convocato per domani pomeriggio i dirigenti scolastici per eh raccordare il futuro a Ragusa invece domani si ritorna a scuola salvo peggioramenti la dia di Catania ha arrestato il boss Maurizio Galletta ritenuto elemento di primissimo piano del clan mafioso Santa Paola Ercolano pare che l'uomo abbia usufruito di favori di alcuni noti medici catanesi per ottenere passi certificati consiglio comunale ieri sera a Vittoria approvate il regolamento che riguarda la definizione agevolata delle entrate comunali che consente ai cittadini di definire in modo agevolato i tributi locali approvato anche il baratto amministrativo Buonasera degli spettatori di MTG e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione in apertura torniamo a parlare dell'intensa ondata di maltempo su tutto il territorio ragusano che ha messo in alerta un po' tutta la popolazione buone notizie per la giornata di domani infatti non dovrebbe piovere ma il freddo persisterà belle giornate magellide sino a sabato con ritorno di rovesci temporaleschi domenica particolare attenzione viene raccomandata agli automobilisti ce ne parla Marco Scavino dovrebbe già a partire dalla giornata di domani rientrare l'allerta maltempo che si è registrata in territorio ebleo e che ha fatto anche registrare la chiusura di alcuni istituti scolastici domani infatti secondo quanto si apprende dalla protezione civile non dovrebbe piovere e così per tutto il weekend ad eccezione di domenica giornate in cui è prevista pioggia dati quelli di venerdì sabato e domenica su cui non vige certezza assoluta le ore notturne che si avvicinano faranno tuttavia registrare un calo che in alcuni casi potrebbe essere pari a due gradi sotto zero nei comuni più alti nonostante dunque da domani sino a sabato si dovrebbe godere di belle giornate non mancherà infatti il freddo il gelo non promette bene in riferimento al rischio ghiaccio le strade si presentano ancora bagnate e alcune di queste stanno ancora vedendo il continuo defluire di acqua verso valle la prudenza è la parola chiave secondo la protezione civile che invita i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti e chiede allo stesso tempo per chi dovesse avere la necessità di utilizzare le automobili di attrezzarsi di catene uno strumento di cui molti sono sprovvisti ma che adesso diventa utile e necessario a tal proposito per chi non avesse mai montato catene agli pneumatici ci sono diversi tutorial su youtube dove viene spiegato passo passo come mettere in sicurezza le ruote gelo dunque che dovrebbe raggiungere il picco questa notte dove nei paesi montani si potrebbe registrare anche una temperatura sotto lo zero in riferimento al weekend le previsioni di oggi parlano di un aumento delle temperature sabato ma il giorno dopo la domenica dunque dovrebbe piovere dati che per il momento vanno presi con le pinze su cui non vi è certezza al cento per cento intanto in queste ore sono diversi i vademecum diramati dagli enti per fronteggiare questa ondata di gelo dal comune di modica arriva l'invito a non utilizzare il trasporto della parte alta della città e di limitare gli spostamenti sono stati circa 30 gli interventi effettuati nel corso della notte dall'ufficio di protezione civile dai volontari del gruppo comunale di ragusa gli interventi hanno riguardato prevalentemente disagi nel transito veicolare e non solo nelle parti alte della città di ragusa non sono mancati i sinistri dettati prevalentemente fanno sapere le forze dell'ordine dall'asfalto ricoperto da uno strato di ghiaccio che ha reso le strade impervie e scivolose e traffico in tilt e caos davanti le scuole questa mattina modica per una notizia che disponeva la chiusura delle scuole senza che fosse stata emanata un'ordinanza sindacale i dirigenti scolastici alcuni hanno chiuso gli istituti altri hanno continuato a svolgere regolarmente le attività scolastiche insomma un vero e proprio allarmismo infondato per il quale domani pomeriggio il sindaco ignazio abbate alle 15 e 30 ha convocato un incontro a palazzo san domenico tra l'amministrazione comunale e dirigenti scolastici si parlerà di come affrontare situazioni di emergenza allerta meteo come quella accorsa nella giornata di oggi l'incontro di domani dunque conclude il primo cittadino servirà a raccordarsi meglio in futuro intanto ascoltiamo questo servizio che ci racconta un po' quanto successo oggi a modica un allarmismo ingiustificato partito tutto da una notizia divulgata questa mattina da un giornale online che ha fatto il giro in pochi secondi della città di modica tramite le chat private su whatsapp la notizia divulgata alle 8.04 riportava queste testuali parole disposta dal sindaco ignazio abbate la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado il freddo e le strade ghiacciate hanno indotto il primo cittadino ad assumere il provvedimento per cui oggi gli istituti scolastici resteranno chiusi questa dunque la notizia che ha mandato in tilt al risveglio la città di modica le mamme non sapevano dunque se le scuole fossero state avvertite e come comportarsi caos davanti agli istituti scolastici genitori e figli spaesati senza che nessuno potesse dargli una spiegazione e come comportarsi dirigenti scolastici presi alla sprovvista così come i docenti la notizia se leggete bene infatti non parla di nessuna ordinanza emessa dal sindaco ma parla solo di una disposizione ebbene se non c'è un'ordinanza firmata ed emessa dal sindaco e poi inoltrato ufficialmente dal comune di modica alle scuole di competenza queste dovrebbero regolarmente fare lezione ma le scuole modicane si sono spaccate c'è chi ha regolarmente svolto l'orario scolastico come l'istituto comprensivo raffaele poi domani con i suoi dieci plessi la dirigente concetta spadaro infatti ha dichiarato di non avere ricevuto nessuna ordinanza del sindaco e di conseguenza gli unici ad essere giustificati sono i docenti e gli alunni che non hanno potuto raggiungere la scuola ma solo ed esclusivamente causa maltempo per il resto tutti in classe così come gli alunni dell'istituto paritario regina margherita che oggi hanno regolarmente svolto le lezioni anche la scuola media giovanni ventitresimo con le sue sedi distaccate a zasi ed ex gensal sono rimasti in classe alunni e docenti solo qualche mamma forse impaurita dal maltempo ha deciso invece di rientrare a casa e non mandare il figlio a scuola altri istituti invece sono rimasti senza alunni e dunque pur restando aperti come l'istituto comprensivo santa marta non hanno svolto l'orario scolastico così come ci ha detto il dirigente pierino modica anche il dirigente dell'istituto comprensivo carlo amore francesco tasca ha dichiarato di non avere ricevuto nessuna ordinanza e che le lezioni questa mattina non si sono svolte i docenti infatti sono rimasti fino alle 9 e 30 mentre il circolo didattico giacomo albo è rimasto chiuso la notizia divulgata dal giornale online sarebbe stata concordata questa mattina nel corso di una telefonata tra il sindaco abbate e il comandante della polizia municipale di modica sarò cannizzaro la stessa notizia che però viene smentita proprio dal primo cittadino abbate con una nota stampa divulgata alle 9 e 28 non c'è alcuna ordinanza di chiusura delle scuole che continuano a svolgere la propria attività didattica l'unico comunicato stampa redatto dal comune invitava alla prudenza e a usare i mezzi di locomozione solo per motivi strettamente necessari lo stato di allerta è solo legato al pericolo di transito insomma alla fine un allarmismo senza senso se dobbiamo attenerci alle parole del sindaco nato solo da una notizia che come detto sarebbe stata poi smentita proprio dal primo cittadino un'ora e mezza dopo una vicenda quanto ingarbugliata che comunque ha creato non poco allarmismo tra i genitori oltre al traffico andato in tilt e se qualcuno volesse rileggere la notizia non è più possibile perché ecco cosa succede cliccandoci sopra e da modica ci spostiamo a ragusa dove tutto torna alla normalità il sindaco federico piccito ha detto che domani si torna a scuola ovviamente se ci dovessero essere dei peggioramenti notate avere fatto un provvedimento uguale a quello emanato oggi l'ordinanza infatti ha scatenato numerose polemiche la decisione è stata comunicata tramite un post pubblicato su un social alle 6 e 50 di questa mattina e questa mattina scuole chiuse anche a monte rosso almo e a chiaramonte gulfi sentiamo i bollettini meteo grazie anche allo smartphone in tasca e alla diffusione dei social sono ormai pane quotidiano anche per i comuni cittadini peraltro le previsioni giungono abbastanza esatte con bassissimo margine di errore e con almeno una settimana d'anticipo ma la burocrazia in che amministra la cosa pubblica è dura a morire e così nonostante le nevicate di queste ore fossero state ampiamente annunciate alcuni sindaci dei comuni interessati non se ne sono accorti in tempo a ragusa per esempio solo stamane con un posto su facebook delle ore 6 50 il comune ha annunciato che oggi le scuole sarebbero rimaste chiuse ovviamente chi non avesse pensato spontaneamente di rinunciare per motivi di sicurezza l'impegno scolastico si è presentato regolarmente e ha trovato chiusi i cancelli un provvedimento con carattere d'urgenza afferma piccitto emesso nelle prime ore di stamane per limitare le possibili criticità dalla protezione civile parlano di un fenomeno non prevedibile in queste dimensioni l'ordinanza è stata fatta durante la notte e in effetti è la prima volta che accade una cosa del genere nel senso che non era prevedibile prima e l'è stata fatta ed è stata messa anche diciamo in gran parte in atto grazie a diciamo il tantam che è stato fatto grazie ai social network altri sindaci hanno potuto annunciare il provvedimento con circa 12 ore di anticipo anche in questo caso è stato fondamentale l'utilizzo dei social è il caso di chiaramonte gulfi dove il sindaco vito fornaro d'accordo con il preside dell'unico istituto scolastico ha emanato l'ordinanza di chiusura delle scuole alle 21 di ieri sera subito dopo l'inizio dell'abbondante nevicata il servizio scuola bus che prende il via alle sei del mattino ha spiegato fornaro non avrebbe potuto svolgersi regolarmente a causa delle strade ghiacciate anche il primo cittadino di monterosso almo paolo buscema ha firmato solo stamattina l'ordinanza della chiusura delle scuole in questo caso il problema è stato per i 124 studenti che dovevano recarsi fuori sede solo i mezzi provvisti di catene potevano entrare ed uscire dal piccolo comune montano da qui la necessità di emanare l'ordinanza nessun provvedimento invece a giarratana dove l'istituto scolastico è rimasto aperto e gli studenti hanno potuto svolgere lezioni regolarmente e ovviamente domani anche a monterosso almo e a chiara montegulfi scuole aperte se ci dovessero essere e novità sarà la i cittadini saranno avvisati in tempo così perlomeno fanno sapere dal comune e andiamo a comiso dove il liceo artistico invece resterà chiuso il 19 e il 20 gennaio la decisione è stata presa dal dirigente del settore di pubblica istruzione dell'ex provincia regionale di ragusa salvatore mezza salma perché lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento non sono stati ancora ultimati e lo saranno molto probabilmente nella giornata di venerdì la giunta municipale di ispica ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità per i gravi danni al comparto agricolo causati dal gelo la richiesta è stata avanzata alla presidenza della regione siciliana con questo provvedimento chiediamo con forza gli organi di governo tutele per le aziende e le realtà produttive del nostro territorio ha detto l'assessore corallo siamo e saremo sempre al loro fianco in questa congiuntura così difficile per l'intero comparto e un boato e poi le fiamme altissime per l'incendio di un cavo di media tensione dell'enel è provocato nel quartiere da un fulmine a carte nel quartiere cartellone a modica provocato da un fulmine vi mostriamo il video che racconta gli attimi di paura vissuti tra i residenti distanti pochi metri dalle scariche elettriche pari a 20 mila volt un fulmine ha colpito la cabina con i cavi elettrici di media tensione dell'enel intorno alle 19 di ieri pomeriggio incontrata a castello determinando un corto circuito ad andare in fiamme i pali in polietilene che hanno provocato le scariche elettriche potenti 20 mila volt sono arrivati i vigili del fuoco e i personaggi dell'enel hanno messo in sicurezza la zona le fiamme che hanno sovrastato il quartiere delle ebrei il cartellone a modica hanno lasciato sorpresa tutta la città che si è munita di telefoni per girare i video uno di questi è stato inviato da adriano rizza il sindacalista ed è stato registrato da un palazzo di fronte al teatro garibaldi dove alle spalle invece le fiamme stavano lambendo la zona circostante dove le case sono arroccate una sopra l'altra per fortuna non ci sono stati feriti tanta paura dei residenti l'intervento si è concluso intorno alle 21 andiamo a catania un contrabbando da decine di milioni di euro nel campo dei carburanti è stato scoperto dalla guardia di finanza che ha sequestrato 25 distributori tra catania siracusa enna e ragusa una vera e propria filiera dal deposito ai distributori di carburante è stata bloccata dalla guardia di finanza di catania grazie all'operazione nespola che ha portato all'esecuzione di 14 arresti domiciliari e 15 provvedimenti di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nonché il sequestro appunto di 25 impianti di distribuzione stradale di carburante ubicati tra le province di catania ragusa siracusa ed enna gli indagati rispondono di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti petroliferi immessi nel mercato nazionale in evasione di imposta utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti falso ideologico frode in commercio e turbata libertà del commercio le indagini hanno fatto emergere due sistemi di frode attraverso i quali componenti dell'associazione criminale si riforniva il carburante di contrabbando i sistemi di frode erano due uno era quello di prelevare gasolio agricolo quindi che ha una tassazione agevolata senza l'applicazione dell'iva o con un'iva ridotta e con un'accisa ridotta grazie a dei falsi libretti uma che sono libretti utenti macchine agricole che servono per prelevare questo tipo di grasolio l'altro sistema prevedeva un meccanismo più articolato attraverso l'emissione di false dichiarazioni di esportazione il prodotto non veniva assoggettato all'iva ma di fatto non veniva esportato ma destinato al mercato interno nel caso delle gasolio agricolo l'approvvigionamento avveniva a scordia in un impianto gestito dalla gp carburanti ai fratelli mauro e augusto pillirone con il secondo canale illecito di approvvigionamento il gruppo criminale prelevava il prodotto petrolifero direttamente da raffinerie siciliane e campane tramite la società comeco srl di siracusa e la petrol service ss di catania e lo rendeva senza l'applicazione dell'iva pari al 21 per cento coinvolta anche la cartiera campana gisape a completare il circuito criminale c'era francesco tomarchio detto a briocha esperto nella monomissione dei contalitri delle colonnine dei distributori di carburante nei confronti di altri 15 indagati è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione tra questi c'è anche salvatore messina organico del clan cappello restiamo a catania dove gli uomini della di hanno arrestato questa mattina il boss maurizio galletta ritenuto elemento di primissimo piano del clan mafioso santa paola ercolano il galletta ha fatto parte del gruppo di fuoco proprio del clan santa paola negli anni bui della città proprio lui è stato autore di tre omicidi come lazzaro riusciva ad alzarsi a camminare senza difficoltà peccato che molti medici ne avevano certificato una situazione sanitaria ben più grave si tratta del noto bossu maurizio galletta che questa mattina è stato arrestato agli uomini nella dia di catania grazie all'operazione lazarus il galletta elemento di spicco del clan santa paola ercolano giù sorvegliato speciale è conosciuto nel panorama giudiziario siciliano perché condannato nel 2007 con sentenza definitiva alla pena dell'ergassolo per essere stato riconosciuto colpevole in un concorso con il noto bossu maurizio zucchero di due distinti omicidi il primo a danno di salvatore vittorio il secondo a danno di angelo di pietro e di giulio magri il galletta è stato trasferito in 17 strutture carcerarie ed è stato sottoposto a numerose visite ambulatoriali infatti amplificava alcuni malesseri per ottenere benefici tant'è che a seguito di un'ordinanza del tribunale di sorveglianza di bologna nel luglio del 2008 il galletta è stato scarcerato mentre si trovava presso la casa di reclusione di parma il galletta pare abbia avuto l'appoggio di alcuni medici compiacenti i quali ripetutamente hanno certificato le sue condizioni di salute ritenute gravi tanto da essere incompatibile con il regime carcerario sono in corso in aggeni da parte della diatranotti professionisti soprattutto del policlinico di catania e gli interrogatori si stanno svolgendo proprio in queste ore il galletta godeva anche di un trattamento previdenziale pensionistico e di una innennità di accompagnamento dal 2008 oggi ha raccolto più di 200 mila euro attualmente noi stiamo sequestrando le cartelle cliniche e verificando anche le certificazioni che hanno posti in essere i sanitari è un'indagine molto delicata e articolata quindi adesso noi siamo nel riservo più assoluto ma in questo momento sono in corso anche degli interrogatori da parte dell'autorità giudiziaria galletta era camminava perfettamente lo abbiamo dimostrato dai numerosi servizi di pedinamento che abbiamo fatto si è tenuto oggi l'interrogatorio di garanzia dell'ex presidente del coni rosario cinto l'ha arrestato il 12 gennaio dalla guardia di finanza per peculato cintolo durante l'interrogatorio si avvalso della facoltà di non rispondere il provvedimento restrittivo e a domiciliari consegue alle indagini sulla gestione dei contributi che la regione siciliana nel periodo 2006 2012 ha messo a disposizione della scuola regionale dello sport di via magna grecia nell'inchiesta indagato sempre per peculato anche l'ex segretario regionale e direttore della scuola dello sport di ragusa silvio piazza e le audizioni della commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali previste presso la prefettura di domani di ragusa scusate domani pomeriggio sono state rinviate al mese di marzo la presidenza della commissione e la presidente della commissione la senatrice camilla fabbri a causa della situazione drammatica vissuta dalla regione marche oggi nuovamente colpita dagli eventi sismici e piegata dal maltempo e dalla neve di queste ultime ore è chiamata a tornare sul suo territorio lo rende noto l'ufficio stampa della presidenza della della presidente della commissione camilla fabbri e andiamo ancora con la cronaca due pluri pregiudicati comisani sorpresi in flagranza di reato sono stati arrestati dalla polizia di comiso mentre tentavano di rubare del rame dalla linea ferroviaria vittoria ragusa interrompendo l'energia elettrica la loro azione criminale avrebbe potuto interrompere per diversi giorni la linea ferroviaria vittoria ragusa recando disagi alla comunità sono stati arrestati due pluri pregiudicati mentre stavano estraendo i cavi elettrici sotterrati ai bordi della linea ferrata grazie all'immediato intervento degli agenti il commissariato di comiso ha ricevuto una segnalazione alle 11 e 50 dalla polfa di palermo che segnalava un probabile furto incontrato a targena sulla linea ferrata in quanto vi era un allarme in atto di interruzione dell'energia elettrica sulla tratta vittoria comiso la polizia ha riconosciuto subito i due malviventi sono due comisani uno sottoposto alla sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno il 29enne pietro alessandrello e il 27enne manuel interdonato pluri pregiudicato per reati specifici avevano tentato la fuga ma dopo aver capito di essere stati identificati si sono fermati la polizia ha constatato che i due avevano utilizzato una sega per metalli una pinza tronchesina e due paia di guanti da lavoro per tranciare i cavi di rame che se venduti avrebbero fruttato un ingente guadagno con l'aiuto di due operatori delle ferrovie di stato è stato individuato l'esatto punto nel quale era stata interrotta la linea elettrica e l'intervento immediato degli agenti operanti al commissariato di pubblica sicurezza di comiso ha impedito danni ben più gravi alla linea ferroviaria che per qualche ora è rimasta comunque interrotta il sostituto procuratore di turno della procura della repubblica presso il tribunale di ragusa andrea sodani ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari un albanese di 27 anni noto per reati in materia di stupefacenti è stato denunciato dalla polizia di stato sessione volante ragusa perché soffreso mentre girava a bordo di un fuoristrada portando con sé una mazza da baseball il giovane non ha saputo giustificare il possesso della mazza che è stata sequestrata l'albanese è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e la polizia di modica arrestato un tunisino per furto aggravato di energia elettrica già noto per i suoi numerosi precedenti per furto resistenza pubblico ufficiale ed evasione l'immigrato era in detenzione domiciliare in una casa del centro storico ma aveva occupato un immobile abusivamente e la proprietaria lo ha segnalato alla polizia da ulteriori accertamenti l'uomo si era allacciato abusivamente alla rete elettrica eludendo con artifici il contatore dell'enel ci fermiamo adesso c'è la pubblicità a tra poco bentornati studio l'onorevole orazio ragusa ha presentato una mozione all'ars l'obiettivo è impegnare il governo regionale a prevedere un'adeguata dotazione finanziaria nel bilancio della regione per il 2017 allo scopo di attivare gli interventi di studio monitoraggio e applicazione di misure di salvaguardia delle aree interessate dal fenomeno della devastazione dei carubenti i carubi siciliani ancora in pericolo e l'onorevole orazio ragusa torna a parlare dell'argomento con delle novità il deputato regionale infatti ha presentato una mozione all'ars nell'atto si chiede al governo regionale di prevedere una adeguata dotazione finanziaria nel bilancio della regione per il 2017 i fondi sarebbero da destinare ad iniziative di studio monitoraggio ed applicazione di misure di salvaguardia delle aree interessate dal fenomeno della devastazione dei carubeti soprattutto quelli presenti sul territorio ibleo a cui si riconosce il 70 per cento della produzione nazionale la mozione prevede anche l'attivazione di misure di sostegno alle imprese agricole messe in ginocchio dal virus che ha distrutto molti alberi il deputato regionale sottolinea che come oramai è stato appurato si tratta del coleottero xylosandrus compactus che insediandosi nelle piante di carubbo ne provoca il disseccamento e la morte in tutto il comprensorio dei comuni della provincia di raguse dei comuni di rosolini e noto in provincia di siracusa e scritto nella mozione presentata dall'onorevole orazio ragusa il numero rilevato delle piante di carubbo è presumibile se aggiri intorno alle 250 mila unità per una produzione annua di 38 mila tonnellate di carrubbe mentre le piante attaccate da questo coleottero dovrebbero essere più di 30 mila dichiara il deputato regionale inoltre è necessario porre in rilievo che l'obiettivo tematico 6 si legge nella nota firma del parlamentare siciliano tutela dell'ambiente valorizzazione delle risorse culturali e ambientali ricompreso nell'ambito dell'accordo di partenariato che ha fissato le linee strategiche le tipologie di azioni corrispondente ai risultati attesi ha espressamente previsto la tutela e la promozione degli assetti culturali e ancora è opportuno evidenziare dichiara l'onorevole orazio ragusa che l'osservatorio per le malattie delle piante di acire ale ha riconosciuto l'insetto studiando i sintomi che provoca ed ha mappato l'area infestata mentre l'università di catania ha attivato tramite gli istituti di entomologia e patologia agraria un monitoraggio per pianificare i migliori interventi adottabili conclude la nota a firma dell'onorevole orazio ragusa niente da fare per l'approvazione del disegno di legge sugli urega l'ars la seduta durata solo pochi minuti è stata rinviata martedì prossimo intanto oggi l'ars preseduta da giovanni ardizione ha incardinato il disegno di legge approvato oggi in commissione affari istituzionali che rinvia al 30 luglio le elezioni di secondo livello nei liberi consorsi e nelle città metropolitane il termine per gli emendamenti è stato fissato per domani alle ore 12 consiglio comunale comunale ieri sera vittoria passata all'unanimità il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali subito dopo è iniziata la discussione del regolamento sul baratto amministrativo del quale sono stati discussi approvati i primi sei articoli su 19 successivamente su proposta del capogruppo di sacca alfredo vinci guerra la sessione è stata aggiornata martedì 31 gennaio il regolamento che riguarda la definizione agevolata delle entrate comunali consente ai cittadini di definire in modo agevolato i tributi locali anche con riferimento a quelli passati senza alcuna sanzione il baratto amministrativo invece uno strumento che valorizza la partecipazione attiva della cittadinanza attraverso interventi di pubblica utilità che consentono di avvalersi di esenzioni sui tributi locali la celebrazione provinciale di san sebastiano patrono della polizia locale si svolgerà quest'anno a modica venerdì prossima alle 18 nel duomo di san pietro i particolari della manifestazione sono stati resi noti oggi nel corso di una conferenza stampa a palazzo san domenico alla presenza tra gli altri del comandante della polizia locale rosario cannizzaro la celebrazione eucaristica sarà preseduta dal vicario foranio don umberto buon incontro durante la senata si esibirà il coro claudio monteverdi di modica e non ci sono ulteriori aggiornamenti come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata arrivederci a domani grazie a tutti grazie a tutti Grazie.